Allora secondo il mio punto di vista la partita è andata abbastanza bene ci sono stati diversi alti e bassi primo set abbiamo avuto un buon gioco sia in tutte le fasi sia nella fase di break e anche nella fase di cambio palla e all'interno del secondo set secondo me siamo calati soprattutto nel servizio ma nelle piccolezze e nelle organizzazioni diciamo basi della squadra e questo ci ha portato a perdere punti importanti il terzo set abbiamo mollato soprattutto mentalmente e non siamo riusciti a sfruttare le certe occasioni che abbiamo creato e il quarto set siamo stati bravi secondo il punto di vista abbiamo vinto come squadra e con cuore siamo stati attenti alle piccolezze e ai particolari che sono mancati i due set prima e siamo riusciti ad esprimere un buon gioco riuscendo a mettere giù i palloni importanti e rimanendo lucidi nei momenti quelli un po più tesi del set il quinto set invece siamo partiti bene abbiamo fatto il cambio campo sull'8 a 6 è mancato quel qualcosa in più che ci è servito e c'è stato d'aiuto il quarto set non siamo riusciti a difendere quel pallone in più e certe occasioni create non siamo riusciti per l'appunto a portarle a buon fine la gara secondo me non è non è andata proprio male ma è andata bene e possiamo ripartire da qui perché comunque vedendo le ultime giornate abbiamo fatto molta fatica anche nelle cose fondamentali nel nella ricezione nel servizio e invece stasera siamo stati molto più costanti sotto questo punto di vista e spero e credo che questa gara ci dia la benzina e la voglia e la grinta che durante la settimana per gli allenamenti e per le gare prossime perché comunque quando giochiamo siamo in gradio e riusciamo riusciamo a giocare con tutte le squadre